1 partiti buongiorno amici benvenuti in questo nuovo video io sono Samu io sono Papi e mi vado a unire a Sample non unisco a niente perché non stai nessuna parte ma no non dice niente non dice niente no dai quale si fa giù c'è amici visualizza il profilo ah non è più quello lì ok mi chiami trovato? sei tu questo? questo tipo strano? sei tu questo tipo allucinato? stai vestito un po' una schifezza mi vado ad aggiungere l'esperienza ma ancora non mi dice niente però perché io non sono entrata? oh cappero dimmelo abisami fammi presente alcune cose ah guarda chi ci sta questo è il cappero loro l'hanno chiamato Blockshead perché non ho scritto cappero? comunque comunque sono l'hanno chiamato blocco e chi è tutto l'hanno? se faccio il ferro l'hanno chiamato? ecco si guardate un attimo vai un attimo indietro vai un attimo indietro stop no 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 dove stavi guardando prima Gesù guardate qui sono sono qui sopra guarda puntare col mouse ti sono buttato ti fai male idiota questo è il mio regalo questo è il mio regalo perché è verde il telefono sta la mano google google allora dove devo andare? devi andare a fare la mano su dove si entra? dal gioco di ruolo ah eh devo fare allora togli qui la classifica toglila proprio così va così classifica devi cliccare o Gesù santo? ma vuoi sentire il gioco di ruolo? basta vedi che non si apre ho cliccato il gioco di ruolo perché infatti l'aveva aperto pirla si è pagato devi cliccare su un mappe ah hai ragione perché ci sono più cose guarda dai sopra la fs si wow questo è il tuo gioco di ruolo io sono notturna io sono notturna aspetta ti metti meglio se vuoi delle camere no 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 questo è il gioco della corsa gioco di ruolo ma che sei dietro? è vero stai un poco avanti? ma che ti ho superato? no ti ho superato fratello? si 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 aperta la porta? si aperta quest'altra? si 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 via si via via che cosa? ma questo è il gioco che devo scappare e poi capire ma non ci riuscirà mai non ci riuscirà mai guarda una cosa no che è successo? si è pagato di brutto non si è pagato ah si è incastrato una volta quella prima volta è difficile e se sarà ancora me lo fa vedere no no se sarà la la ma è una male se rimaneva più su quantità che fa questo affine tra buono mamma io dal pc non so giocare però lo sai non riesco a giocare velocemente non ce la faccio perché poi devi entrare devo girare poi devo premere quello là non ce la faccio mai mamma dicevo di tutto il gioco si va a finire va bene ma qua perché stavolta scappo d'acqua si è bloccato si è baggato si è baggato sono partito parte con una velocità incredibile salta i muri salta gli ostacoli ecco il gioco gira così nella run e va bene è impossibile è impossibile vai vai posso fare le sbagliate oh per poco l'avevo trovato per scappotarci per prima non ho detto via non ho detto via non ho detto ancora via via mi sono rompato due secondi si compigliava il muro ma già entra dietro subito subito alla porta e vabbò ma se questo è azzeccare il muro ma è ccemo se questo è azzeccare il muro posso giocare con il joystick non è una seta che chiamo il joystick della switch qua vicino madonna per quanto funziona il joystick della switch qua vicino ok non lo usiamo così si chiacca la destra non ti faccio capire più pronto via non puoi smettere di tirarti i piedi hai le emozioni di questa maniera ogni volta che giovi ah batti la porta e fai è una questione eh vabbè che malandrino che truffatore chiude la bocca che malandrino si chiude la mano 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 vabbè apri qua eh e che facciamo mi ha aperto giù apri non si muove sei buggato non si muove e chiude la mano non li staccavolo di porta io non te l'aspettavi eh non te l'aspettavi eh che partivo così in maniera così veloce non te l'aspettavi chiude a l'anna spezzattino mannaggia lo spezzattino di patate con i piselli no 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 ma ha pensato in run l'ho visto l'ho giuro l'ho visto ho visto con la mano che faceva in run questo brucchione un brucchione ti ho visto mettere il run perché il mondo non tanto ma proprio un brucchione l'ho visto che con la mano sinistra che ti verranno sotto senza farsi vedere che era convinto che non lo vedeva e poi c'era subito l'ho peccato e l'ho sgamato eccati sta porta in faccia ti tronti ti ho detto ancora via torna lì te l'ho detto via via mamma ma che fa vai dentro al muro stanno veloce non metti il run non metti il run eh vabbè è il muro è dietro velocissimo metti il run sto guardando e non metti il run e vabbè è bellissimo e girati che non vedo la porta e se non c'è 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 e ti ha sbattuto il portone in faccia e non te la prendere fratello può succedere anche a te c'è bruglione non ti scopero come corriva con la coda dell'occhio quello correva come una lepra ancora togli no no basta più no non gioco più no non gioco più no no non gioco più il finale io non gioco più no e sai tocca al servo di un certo momento e tu devi bussarti c'è 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 l'iladio via senza raro senza raro C'è RUN! Ti ho guardato! Non gioco più. No, però, no, no! Tutto è giocato lì, non verrà. Eh, ora l'ha levato, ma che non mi serve più. Mi parte per il secondo giro. Ha raccolto un discreto vantaggio. Potrebbe, se non pigliasse la porta in faccia! Ma quello ci mette un mese a girarsi, ah, ma che faccio io? Sì, c***o! Girarsi! Sì, c***o! Ma come si stia qua? Non siamo in registrazione. Ti ha toccato un secondo. Aspetta, un po' dove si mette la pausa? Sì, c***o! Sì, c***o! Sì, c***o! Sì, c***o! Sì, c***o! C***o! BAM! Ti ho sbattuto il portone in faccia con tanta violenza e aggressività! Sì, c***o! Sì, c***o! Ma non ci può fare perché ci vuole troppo tempo a girarsi! No, non è possibile! Ci vuole troppo tempo a girarsi! Perché poi faccio il giro, tu fai tre volte il giro del palazzo! È possibile! Sì, c***o! Mi sa così, appena entro, vedi? C***o, vedi? Non è possibile! Perché devi riuscire completamente per trovare il pulsante! Se potessi prendere... Ma non è sicuro proprio solo un pulsante che si abbassa la porta, no? Magari, no? C***o appena entro per MF, per esempio... Siamo sicuri? E' una prova! Se trovi il pulsante... Si! Se trovi un pulsante che si abbassa la porta! No, no, no! Ti massacro proprio! No, no, no! Vediamo! Hai capito? Hai capito? Queste sono le frecce che ti fanno muore, guarda! No, ma non lo posso prendere! No, lo sapete! Non l'hai capito! Non lo posso prendere! Non lo posso prendere! Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so! Non lo so, 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 non lo so! Via! C***o stavi dormendo! Mentre io partivo tutta la vicina, ti andavamo a massacrare! Dai, veloce, veloce, giratiii! Dai, ma... ... Quei facciamo? No! Una, una, una! ... Quattro fuzz beer! No, uno! Quattro fuzz beer! No, uno! Quattro fuzz! Scusa, guarda, io sto qua. Io sto qua, dove sei? 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 No, sono da una volta qua dove sei? Io sto qua, dove sei? Io sto qua, dove sei? Io sto qua, dove sei? Ecco, c'è stato il fronte della luce? No E poi, qua è buio se hai toglione. Si vede, mamma. Mi ha... Non metterla. Non metterla, non fu l'annaccia. Ah, adesso vado a cucina di un po' Tuttiiii! E' un pedro per girarsi. Siamo giocato al contrario. Siamo giocato al contrario. Siamo giocato al contrario. Siamo giocato al contrario. Che è successo? Sono giocato al contrario. Ma questo è un po' di 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 un po'. che è successo che cosa è successo ti ho sbattuto il portone in faccia non te la prendere fratello non te la prendere non te la prendere non te la prendere non te la prendere ma non è che è così stretto io non ho sbaglio che è troppo larga l'altra è più larga la stanza è troppo stretta è troppo meruta mamma portone in faccia anche per te ah guarda che rannato che ha messo il rannato il rannato ha messo il rannato io salto così d'auto questo è l'ingresso non mi ricordo c'era la stanza con un teatro all'interno giusto è qui dove stava la botola la botola c'era una botola c'era una botola si scendeva giù come si scendeva giù alla stanza ma che fai si scende si scende si scende andiamo a esplorare dove sta il bagno andiamo a esplorare dove sta il bagno no io non lo so io ando a farmi ecco questo è il bagno ma dove vieni che sto andando in bagno e la pensa a me si dove dove ma che fai vieni a esplorare dentro al bagno mi sono perso che è successo questa è la porta ma chi l'ha chiusa la porta? questa è la porta e chi l'ha chiusa? tu l'hai chiusa si io l'ho chiusa perché sono davanti ok ma che spiegati ti ho fregato questa volta chi ha chiusa la porta? ma c'è uno che che non so manco dovevo andare e dove sta l'ufficio? questo è questo? eccolo aspetta non c'è il mouse no non c'è il mouse ma non c'è il mouse ma non c'è la piazza scoperto quella cosa questo è questo ti fa fare l'audio ti fa fare l'audio togliela aaaah mannaggia non si riusciano a fare la pia non si riusciano a fare la pia non si riusciano a fare la pia togliela non si riusciano a fare la piazza togliela no che borghio non ci riusciano a fare la piazza è fricata proprio ma perché che sta scorreggendo? gli stiamo sganciando di piazza ma ci riusciano a fare la piazza che borghio non si riusciano a fare la piazza porta in faccia anche per te non metti l'altra non metti l'altra no dai soli aspetta sto capendo a niente no la registrazione no ecco qua sta ancora registrando si? si perché si è bloccato? si senti? io che ne so non capisco niente aspetta che metti un attimo a registrare è vero? metti un attimo a carcare il computer a tempo io faccio a tempo io salto ok allora dice però è brutta vedere così non ci stava una mappa di giorno che non devo mettere nel turno oh si come le fai? come si fa? posso levare il giorno? si non si è soltanto eh no non si è venuto qualcosa ma dove stiamo e quando siamo entrati in cucina si stava spegnendo il computer stupido non è vero porta in faccia la Renault porta in faccia la Renault questa notte solo schiaffi ah mi sa boni cambiamo la mappa andiamo in due facciamo un'altra mappa vediamo due giorni FNAF 3 FNAF 4 di Fredbar notte FNAF 4 casa incubo guarda che notte tutte le parti cosa sta qui e che non si vede niente adesso mi sta giocando non si vede niente se la levo non si vede proprio niente ma no si vede ora perfetto buono è ottimo via ora che ti fa seguo si vado sotto fuori è notte è la luce di casa quella lì non si vede niente ma si è bancato non si muove ah stavo parlando mi ero incastrato vicino alla cosa delle lettere perciò non si muoveva ancora ti seguo ti seguo no ma questi tu non la sei variosi perchè sono molto assoluta aspetta oh no ma in realtà con il cellulare è una cosa ma succede sul computer è poi impossibile da fare eh no si va con Rana si va con Rana si va con Rana ci vedo ci vedo l'ultima volta che mi sono scorciato ci vedo l'ultima volta che mi sono scorciato vabbè ecco sentiamo in casa questa è la casa si può levare questa si finalmente che ho liberato questo verde wow ora vuole il gioco eh tagli sta l'an e basta via oh 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 poverino poverino se mi venite a aprire questa guarda ora mi sto tutto tirando guarda si che ce l'hai devo salire qua sopra ma perché stai spiando a me? perché spighi il mio computer? io ti do una bella porta in faccia vè? ah questo si può chiedere col pussante basta no adesso che l'ho saputo no no mamma no invece questa è la volta buona che ti posso sbattere la volta in faccia se ne trasporto le più a me la tua pare notte abbiamo qualcosa che si vede? non si vede io vedo benissimo andate è notte ogni notturno siete benissimo si vede benissimo qua è notte però ma c'è però qua si vedeva rimaniamo qua saliamo al piano di su eh?! no 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 salgo su e ti consigo o인데 noops andate per giù oh no 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 ti fai cadere il computer eh facciamo l'ultimo giro guardami un attimo ultimo giro fratello sei pronto via non te l'aspettavi guardami non te l'aspettavi guardate che non c'è il maus guardami non c'è il maus questa trick ti feda sempre con questo trick questo è un trick che usiamo sopra noi poi questi trappi lo voglio usare questo lo sopporti proprio ci piace per te ci piace per te ma questo è un trucco per... ma che imbroglione quello c'è l'imbroglione che c'è con il run che è passato a 300 km all'ora con gli imbrogli proprio esagerati entra uh ti ho fregato ma non c'è ma non c'è ma non c'è tito con una velocità incredibile a 400 km all'ora e il ragazzino proprio cercava di prenderlo cogera c'è non c'è ma io non l'ho visto che non c'è non c'è il trucchetto mi piace sempre noi c'ho una visuale molto da basso noi c'ho una visuale da basso questo è la visuale proprio da basso come si faceva? si mantieneva premuto il tasto aerosier questo è meglio vai stavo troppo in basso per lì il tuo corpo solo sa si per te ah l'ultimo giro via sta correndo come un matto mamma mi prenderai mi ha beccato non abbiamo fatto una copertina la scatichiamo andiamo alla frattura la facciamo sempre perchè? si può fare? si fa cattura allora ci fermiamo a un certo punto poi dopo quando la abbiamo sul programma facciamo lo screen e catturiamo l'immagine quindi scegliamo dove la vogliamo fare qui apri la porta aspetta andiamo là dove dobbiamo andare ma è notte però vedi se è notte vedi se è notte eh non si vede niente con la torcia ci vuole la torcia aspetta prima tutto allora giochi di ruolo oggetti dove? e quello voglio fare con la torcia ok l'ho presa la torcia posso togliere il gioco di ruolo la torcia si attiva con il 2 ecco qui perchè non si è appeso prima di 2? 2,3 perchè non parto la torcia? infatti l'hai accesa eh non si è niente ma ora l'ho accesa ok arrampicati là vedi che si speglie? sei scemo non c'è la mano qui non c'è la mano non c'è la mano non c'è la mano non c'è la mano perchè non stai camminando infatti qui non cammino c'è ok come si fa ad allontanare un po' la visuale? ok ok adesso giriamo un pochettino così eccolo perfetto così va bene ora mi giro verso di qua ecco vieni a chi è in quanto a me ma bellissima così no vai solo dico mi ricordo più a super io ecco la docima non la fai sì io va non te la devo fai perchè la docima e allora io so giù tu su eh bello così vicino un po' questo di qua allora metti un attimo eeeh metti un attimo questo anche se non ecco così si si vede ok ci faccia così si si a questo punto qua faremo l'immagine ok andiamo a salutare ok mi giro un po' di più così oh mannaggia ok ragazzi il video se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale sempre a 096 e metteteci un bel like ci vediamo al prossimo video ciao da papi ciao 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 a tutti ciao allora di base di base commerciale di fare stop